ben tornati sul mio canale oggi vi propongo questo coprispalle che avete già visto in anteprima sulla pagina il coprispalle lemon l'ho chiamato così proprio per via del colore che è un colore di un verde un po particolare molto molto carico e l'ho realizzato con il filato agata ne ho utilizzati 300 grammi il filato agata credo molte di voi lo conoscono è un filato c'è un filato 100 per cento cotone pettinato gasato mercerizzato ogni gomitolino è da 50 grammi per 102 metri e ci sono tantissimi colori io ho scelto questo loro e questo colore un po diciamo il colore un color lime più che lemon e a me è piaciuto perché comunque è un colore che quest'anno questa estate va moltissimo un colore vanno i colori accesi e io ho fatto questo coprispalle abbinato ad una canotta che sarà un prossimo tutorial quindi l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 3 scusate il numero 4 e le mie misure sono 130 per un'altezza di 44 centimetri quindi è un lungo rettangolo se siete interessate ad acquistare il mio stesso filato io l'ho acquistato sul sito www.merceriaflavia.it dove troverete tantissimi altri colori purtroppo la telecamera ve lo se ve lo vi da un verde diverso ma poi vedrete dalle foto sicuramente avrete visto dalle foto che è un diciamo è molto acceso come colore detto ciò se andate sul sito dove acquisto io troverete attiva anche una promozione è praticamente ogni 10 euro di acquisto avrete un punto ad ogni 10 punti avrete una spedizione gratuita oppure 5 euro di sconto e inoltre la merceria questa dove acquisto io ogni l'ultimo sabato di ogni mese fa dei lotti in offerta molte di voi lo sanno però quelle nuove che mi seguono magari non lo sanno quindi ogni mese avrete la possibilità di seguire una live in diretta sulla pagina della merceria dove potete acquistare questi lotti che praticamente filati che praticamente possono essere invernali misti estivi in più sono dei filati in offerta perché magari sono bagni diversi oppure la merceria vuole magari non riassortire quel filato bensì prenderne un altro cioè diciamo c'è una vasta scelta e io anche in questo ogni mese seguendo la live acquisto questi filati che poi vi farò vedere in seguito sempre attraverso altri progetti detto ciò vi lascio i link sia del filato tutto in descrizione in modo tale che voi potete arrivare ovunque sia sulla mia pagina sui gruppi facebook e sulla merceria quindi detto ciò vi faccio vedere il punto perché come ripeto è un lungo rettangolo come misure almeno per quanto mi riguarda ho fatto 130 per 44 d'altezza e lavorato tutto con l'uncinetto del numero 4 lo schema di questo punto già lo avete già lo avete sul gruppo e anche sulla pagina un'altra cosa a volte io girando su Pinterest e mi capitano dei punti dove magari non è specificato il multiplo quindi mi è difficile magari ricavarlo quindi cosa faccio io quando sono progetti che si lavora a pannello io avvio una catenella dopodiché cosa faccio lavoro il punto e le catenelle che mi avanzano vado a disfarle adesso ve lo faccio vedere comunque anche questo sul campione quindi avviate un tot di catenelle e poi ci rivediamo fatte le vostre catenelle che cosa facciamo facciamo una catenella aggiuntiva rientriamo nella seconda dall'uncinetto e facciamo la maglia bassa poi facciamo 4 catenelle quindi una 2 3 e 4 saltiamo tre punti di base quindi 123 nel quarto punto basso 4 catenelle 1 2 3 e 4 saltiamo 3 punti di base quindi 1 2 3 nel quarto facciamo una maglia bassa dovete fare questo per tutto il giro quindi ci vediamo a fine giro siamo arrivati a fine giro contiamo sempre una due tre e quattro in questo caso mi avanzano soltanto due catenelle quindi le lasciamo finiamo il progetto e poi a fine progetto andiamo a disfarle e facciamo in questo modo vedete ecco qui a me erano soltanto due stringete poi il nodino e ecco qui avete disfatto le vostre catenelle in esubero adesso facciamo il secondo giro il secondo giro e che cosa consiste allora io non faccio le 3 catenelle però potete fare le 3 catenelle io faccio 2 mai 2 catenelle volto il lavoro carico il filo rientro alla base e faccio la maglia alta quindi questa a me equivale ad una maglia alta sicuramente molte di voi saprà se non sapranno farlo sicuramente questo punto però per le nuove lo faccio vedere adesso cosa facciamo facciamo quattro maglie alte nell'archetto quindi carichiamo il filo entriamo nell'archetto e facciamo una due tre e quattro poi facciamo due catenelle quindi una e due nell'archetto successivo maglia bassa 2 catenelle archetto successivo 4 maglie alte una due tre e quattro due catenelle una e due archetto successivo maglia bassa archetto successivo maglia bassa 2 catenelle e ripetiamo le quattro maglie alte quindi dovete fare questo per tutto il giro quindi ci vediamo a fine giro per terminare insieme siamo arrivati al termine del giro 2 catenelle archetto maglia bassa 2 catenelle carichiamo il filo 4 maglie nell'ultimo archetto quindi una due tre scusate ha terminato il filo allora maglia bassa 2 catenelle nell'ultimo archetto quattro maglie alte quindi una due due tre 4 e l'ultima la facciamo sulla maglia bassa facciamo la maglia alta in questo modo e abbiamo terminato il secondo giro terminato il secondo giro facciamo il terzo giro facciamo una catenella voltiamo il lavoro maglia bassa poi 1 2 3 e 4 catenelle andiamo a questo a questo archettino di 2 ma di 2 catenelle facciamo la maglia bassa poi 1 2 3 e 4 archettino successivo maglia bassa 1 2 3 e 4 saltiamo le quattro maglie archettino maglia bassa quindi stiamo ripetendo il primo giro quindi ci vediamo a fine giro siamo arrivati a fine giro ultime quattro catenelle ci chiudiamo sulla maglia sull'ultima maglia alta con una maglia bassa adesso dobbiamo sfalsare le maglie alte anche per creare il disegno che voi vedete sia sullo schema che sul progetto originale quindi per sfalsare le maglie alte facciamo in questo modo facciamo una catenella voltiamo in lavoro rientriamo e facciamo o maglia bassa e catenella equivale alla maglia alta oppure come di solito faccio io in questo modo e mi piace molto di più perché è più regolare il laterale faccio 2 catenelle voltiamo in lavoro rientro e questa è la maglia alta equivale ad una maglia alta poi 2 catenelle andiamo nell'archetto e facciamo maglia bassa poi 2 catenelle andiamo nell'arco successivo e ripetiamo le quattro maglie alte quindi 1 2 3 e 4 2 catenelle archetto successivo maglia bassa 2 catenelle archetto successivo maglia alta quindi dovete ripetere questa sequenza per tutta la riga quindi ci vediamo a fine giro siamo arrivati a fine giro facciamo 2 catenelle maglia bassa nell'archetto 2 catenelle cariamo il filo maglia alta nella maglia bassa e anche questo giro è terminato spostiamo un attimo e anche questo giro è terminato adesso catenella voltiamo e facciamo maglia bassa 4 catenelle 3 e 4 andiamo nell'archettino e maglia bassa 1 2 3 e 4 saltiamo le quattro maglie archettino maglia bassa quindi dobbiamo ripetere la riga degli archetti di 4 catenelle quindi ci vediamo a fine giro siamo arrivati a fine giro le ultime 4 catenelle e andiamo a fare la maglia bassa sulla maglia alta e abbiamo terminato il giro adesso dobbiamo rifare il giro con le quattro maglie alte quindi sono due giri che si alternano e dove si sfalzano le maglie alte per creare questo disegno quindi vi faccio rivedere come si riparte dalla seconda riga e poi potete andare avanti da sole quindi 2 catenelle volto il lavoro adesso facciamo le quattro maglia rientriamo facciamo la maglia alta questa è la prima maglia alta poi le quattro maglie alte nell'archetto quindi una quindi 2 3 e 4 2 catenelle maglia bassa nell'archetto successivo 2 catenelle e ripetiamo le quattro maglie alte quindi una quindi 2 3 e 4 quindi come vedete le quattro maglie alte vengono sfalzate quindi finisco il giro la riga e ci rivediamo allora io ho terminato il giro il risultato è questo come vedete è un punto molto molto semplice sono due giri che si alternano e si sfalzano le maglie alte creando questi come dire questi punti questo punto farfalla punto fiore come lo vogliamo chiamare quindi il progetto è semplice perché come ripeto è un rettangolo lungo 130 cm quindi un metro e trenta per un'altezza di 44 cm adesso io vi dico anche quanti centimetri ho fatto ho cuscito così potete regolare io ho cuscito 26 25 cm quindi poi logicamente ognuna di voi sceglierà la propria misura perché io non lo volevo nel lungo al polso e neanche troppo corto quindi l'ho fatto un tre quarti però voi potete prendere la vostra misura se lo volete da polso a polso quindi la misura deve essere presa da polso a polso oppure da gomito a gomito se volete la mezza manica o poco più sotto del gomito se volete il 3 il tre quarti quindi spero che questa idea vi sia piaciuta e questo punto è adatto per le maglie per i copricostumi per le bluse per le tuniche di coprispalle potete realizzarci veramente qualsiasi progetto voi vogliate da indossare quindi detto ciò vi lascio tutti i link di riferimento sotto al tutorial e noi ci vediamo in un successivo tutorial